il mio pacchetto by temu unboxiamo insieme allora ragazzi c'è una novità queste cose non le ho comprate ma è una collaborazione ebbene sì frullina è stata scelta da temu allora per prima cosa cassettino da mettere nel mio comodino dove ci metterò le mutandine molto comodo trasparente poi lo spruzzino per l'olio questo è stilissimo perché andremo a diminuire la quantità di olio che andiamo ad utilizzare e quindi faremo del bene a noi e anche all'ambiente normalmente farò vedere tutti quando saranno in funzione vedete qui mettiamo l'olio spruzziamo e quindi utilizzeremo pochissimo olio poi questo moffino qua perché siccome io ho il divano con i piedini tanto bassi non c'entro mai non ci posso entrare ho preso questo che oltre ad entrare sotto i mobili con poco spazio posso pulirci anche sopra c'ha il suo manico ed è veramente 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 carino e utile poi ho preso lo schiaccia aglio perché di quelli che ce l'hanno funziona manco uno e invece questo funziona per forza quindi mettiamo l'aglio così e schiacciamo un'altra cosa che ho sempre voluto prendere è questo ruzzino qua che serve a tagliare tutte le verdurine con il suo contenitore tagliamo e abbiamo già le verdurine pronte abbiamo questa parte qua che va praticamente tagliare qui abbiamo tutti i nostri accessori vari ed eventuali per tagliare le verdurine patate che prima che mi metta l'accessorio per la mandolina perché c'è anche questa il dolbo cestello qui ci mettiamo la verdurina poi la possiamo lavare e scolare quindi direi top un'altra cosa che mi sono presa è questo padellino va che davanti che guardavo che è per cuocere le uova e anche i pancake adesso dovrebbe essere dentro il manichino infatti eccolo qua adesso andiamo a montare facilissimo perché c'è la vitina così guardate che figo altra cosina ha voluto prendere è il l'organizzatore da mettere sotto al lavello avanti tutto il suo splendore adesso andiamo a montare ed eccolo qua super montato con i cancetti e questo che si muove adesso vediamo se mi sta sotto il lavello ci sto ragazzi ci sto adesso ci metto tutte le mie cosine dentro ma vabbè un verbo è troppo strozzino mi piace troppo sto felice io grazie temo un bellissimo porta grani riso insomma legume quello che si vuole e sotto fantastico il porta uova ma la bellezza allora qua ci mettiamo tutte le nostre cosine tipo il riso complex quello che ci piace naturalmente c'è il pulsantino per poter prendere quello che ci serve e sotto c'è appunto il raccoglitore per prendere le cose che ci servono e qua invece ci andiamo a mettere le uova le uova eccolo qua con tutti i grani il riso questo fatto adesso ci andiamo a mettere le uova che dire adoro 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 grazie altra cosina che ho scelto sempre sul mio amato temo è questo termometro per la carne ho preso i led per mattia adesso ve li faccio vedere allora abbiamo il telecomandino i due supporti il cavo naturalmente dove sono attaccate le barre led queste sono bellissime perché praticamente le metterà sulla sua postazione ed eccoli montati nella descrizione troverete tutto compreso il codice risconto che temo a messo a punto prova per voi un bacio nato di tempo si non è un problema